Si è verificato un incendio all'interno di un appartamento, purtroppo c'è una persona che è deceduta a seguito di questo evento, è una persona anziana. Propendiamo per un fatto accidentale in questo momento, per quelle che sono le verifiche speditive che viene fatta nel giro di pochi momenti. Era un divanetto dove la persona era seduta sdraiata e quindi in quel contesto si è verificato questo incidente. C'erano ancora fiamme, infatti la prima squadra intervenuta di fatto ha spento questo incendio in corso, compreso gli indumenti della persona. all'interno dell'interno del palco di montello. All'interno della stessa, come si è realizzata come si è realizzata su soli. Andiamo a un'interno della stessa, affidanza con un'interno della stessa, vive in un'interno della stessa e sta esgotando la stessa. Andiamo a un'interno della stessa. Anche a un'interno della stessa, sono state rivela in Paglia, Grazie per la visione!